Buon salve a tutti e benvenuti a questo nuovo unboxing dedicato stavolta al Flame Questo Flame l'ho ricevuto partecipando all'Apps Program proprio per gli sviluppatori e in questo modo l'ho avuto prima rispetto al lancio ufficiale tramite il sito EverBank dove si può comprare e l'ho ricevuto quindi in omaggio da Mozilla per lavorare sulle applicazioni tant'è che già ieri ho lavorato su Ringtone Picker e ho aggiunto il supporto al Flame correggendo alcuni bug che si presentavano con altri dispositivi che mi erano stati segnalati ma con i miei Alcatel Montage Fire e Geeks Phone Key non accadevano mentre con il Flame accadevano quindi ieri ho lavorato e ho già caricato l'app sono in attesa dell'approvazione poi mi tornerò a lavorare su Mozilla Aggregator che è la mia terza applicazione che ho presentato proprio per l'Apps Program detto questo facciamo un unboxing anzi io l'ho già aperto perché per curiosità e perché avevo il dubbio che il telefono fosse scarico tant'è che quando l'ho acceso si è subito scaricato non ne ho anche fatti tempo a fare la configurazione quindi non sarebbe stato bello fare l'unboxing e provare il telefono scarico quindi l'ho fatto ed io vi presento la scatola è così e dietro cose interessanti sono tutte specifiche tecniche cosa che ho visto raramente in una scatola di un telefono quindi vediamo un attimo insieme di ripetere un attimo queste specifiche tecniche qui si legge dual core processor ma non dice quant'è la velocità è 1.2 GHz ha una RAM da 1 GB che si può regolare via passboot e questo è molto interessante per i sviluppatori perché ci permette di emulare dispositivi meno potenti ha una ROM da 8 GB ha 4.5 pollici di schermo prodotto 3.0 dual sim ha una batteria da 1800 mAh e ha due fotocamere una novità che io al momento non avevo vista in altri dispositivi ovvero quella frontale da 2 megapixel che è classica diciamo tutti dire fino ad oggi ma non c'era quella frontale fino adesso in Firefox OS nei dispositivi con Firefox OS e poi abbiamo quella retro da 5 megapixel con l'autofocus e il flash cosa che al momento i dispositivi precedenti non avevano niente di tutto questo e queste sono le specifiche tecniche ma non ho detto i sensori ha molti sensori tant'è che questo è un dispositivo pensato a sviluppatori ha l'accelerometro il settore per la radio prossimità luce ambientale GPS e NFC purtroppo però ho potuto provare NFC perché non avendo mai avuto un dispositivo con NFC non ho dei tag ma l'ho già ordinato quindi li proverò quando mi arriveranno come ho già detto questo è un dispositivo per sviluppatori che fa capire qual è il target ma una cosa che ho notato sulla scatola è questa Alcatel One Touch che mi sono detto forse è stata fatta in collaborazione con l'Alcatel allora io apro il telefono vedo la batteria è noto che la batteria ha un bel Alcatel One Touch scritto sopra sta prendendo la cover come si può vedere questa è il retro vediamo che la batteria è dell'Alcatel è del 1300 mAh non è la stessa dell'Alcatel One Touch Fire che è del 1400 pure il codice infatti è diverso come si può vedere abbiamo lo slot SD le due slot per le sim e poi qui abbiamo fatti il flash che negli altri dispositivi con Firefox S non sono presenti non ci sono ma già la costruzione rispetto a quello che è il Kion a livello di back cover è molto più diciamo non dico professionale ma fa capire che il target è diverso questo è il Kion i pulsanti sono così nel flash nel flame i pulsanti non si possono toccare dalla back cover che stanno esterni ma già l'impressione che si ha a livello di plastica è molto diversa ricordiamoci che questo espositivo costa di più 170 dollari che sono 120 euro si può ottenere uno sconto a letto e si può arrivare a 110 euro il problema è che dell'acquisto da Everbuying è che lo compri adesso per il preordine e verrà spedito dopo il 7-10 luglio che richiede una settimana e arriverà dal Giappone e un'altra cosa che ho notato è che nella scatola il carica batterie nel mio gas è stato americano però per noi che abbiamo i carica batterie USB che ci avanzano per tutti gli dispositivi moderni diciamo che non è un grande problema ah dimenticavo all'interno della scatola ovviamente si presenta così dentro abbiamo un altro spazio ovviamente dove vengono alloggiati tutti gli altri accessori il cavo USB micro le cuffie e il caricabatteria già citato che come vedete ha l'attacco americano e questo è tutto non c'è niente mentre con il Geeksphone Kion mi riferisco a Geeksphone Kion perché il Geeksphone Kion è stato il primo dispositivo per sviluppatori anche il primo dispositivo distribuito ufficialmente a tutti e si presentava in modo molto differente qui ancora la scatola si presentava così un po' di developer preview perché proprio erano i primi con pure il sito di riferimento così perfetto per dimostrarlo e poi c'era si apriva e c'erano tutte le varie cuffie che non ho mai utilizzato e c'era incluso anche l'adesivo e un piccolo manualino per utilizzarlo adesivo adesso è stato il mio ammadio io speravo che ci fosse invece non ci sono ne questo Flame e il manuale c'è che ti spiega i primi passi come utilizzare per FoxOS e anche il sito per scaricare le ROM ufficiali che la Geeksphone fornisce come per questi suoi dispositivi che oggi giorno sono fuori produzione non si trovano e io speravo che pure per il Flame fossero già disponibili disponibili il sito per scaricare le ROM perché ho visto immagini su Twitter ma penso che sarà necessario compilarsene da solo in attesa che carichino questo sito per scaricare le varie ROM perché su questo vorrei provarci le Nightly ma detto questo parliamo un attimo della recensione di questo dispositivo che è questo che ancora non mi ha fatto vedere eccolo qua lo schermo è un 4.5 pollici si può vedere che le dimensioni sono veramente diverse anche con l'H del One Touch Fire sono proprio completamente diverse e io mi ci trovo molto meglio perché sono abituato ad utilizzare il Galaxy Note della prima generazione che è molto più grande mi ci trovo molto meglio tant'è che il passaggio da questo qui il Flame è stato molto più semplice perché la tastiera a me non mi ci trovo meglio perché io telefoni piccoli per via della tastiera piccola non mi ci trovo per niente bene il dispositivo rispetto ai precedenti è una batteria leggermente più potente perché il Kion ha una batteria da 1580 mAh e la H-Tel da 1400 ma visti i precedenti casi in cui l'H-Tel e il Kion mi sono rimasti accesi una settimana e anche più con il WF acceso perché non me ne ero accorto immagino che anche questo dispositivo abbia una batteria che raggiunga questa durata che non ho potuto testare perché non ce l'ho neanche da una settimana ce l'ho da due giorni ma visti i precedenti ipotizzo questa questa cosa la differenza rispetto ai precedenti che questo qui ha un giga di RAM è da dual core mentre tutti i dispositivi precedenti non avevano avevano massimo 512 MB come il Kion e 256 come l'H-Tel ed erano tutti da un core solo e arrivavano massimo 1 GHz il Kion era 1 GHz e l'H-Tel sempre pure 1 GHz e avevano meno i stessi sensori la ROM è molto differente questa 8 GB gli altri avevano 512 e l'altro e il Kion mi sembra altrettanto la fotocamera è diversa ah l'H-Tel è da 3.5 pollici quindi pure il Kion sarà di questo schermo detto questo la consistenza al tatto è molto diversa rispetto agli altri telefoni che hanno una cosa ruvida metallica questa dà l'idea di commosa un po' come ha il Kion e che non mi dispiace per niente perché dà un grip leggermente migliore rispetto ad altri dispositivi l'unica cosa è che al momento ancora non ho trovato le pellicole protettive perché posso capirlo ancora non è distribuito ufficialmente né in vendita quindi vedrò di trattarlo con cura perché negli altri esempi non ho messo una pellicola protettiva perché non è mai servita per il semplice fatto che hanno uno schermo piccolo e che li tengono spesso in tasca appoggiati sul tavolo dove lavoro questo invece io vorrei provarlo anche in cominciare a utilizzarlo come daily esatto questo dispositivo presenta Firefox OS 1.3 una versione sviluppo quindi chi vuole comprarlo perché vuole avere un dispositivo Firefox OS andateci un attimo piano perché al momento non esistono ROM e non ho detto che ci siano gli aggiornamenti OTA quindi vi ritrovereste con un sistema con tutte le applicazioni di sviluppo che non ci sono disinstallare perché non ci sono i permessi di root non possono essere disinstallate tutte queste applicazioni demo che utilizzano i sviluppatori per provare l'API eccetera quando lavorano e queste non ci sono togliere ma per me per provarlo sono stati interessanti perché per vedere le effettive capacità ma io voglio far vedere lo schermo non so se la webcam ci riesce lo schermo è un vero schermo quello che abbiamo visto con il Kion che è granuloso ricordiamoci che il Kion è stato lanciato ad aprile dell'anno scorso mi è arrivato a maggio a me quindi no fine aprile mi è arrivato a maggio c'è ancora il video nel canale per chi vuole vedere la recensione e l'unboxing di questo dispositivo e lo schermo di questo è molto più non è molto definito mentre questo sì è anche più luminoso e che l'HTL è una via di mezzo potremmo dire tra questi due e ho voluto fare un test di benchmarking con questi dispositivi ho fatto la prova con Quake Benchmark che cos'è Quake Benchmark nel mio pronuncio inglese è un'applicazione WebGL che prende un livello di Quake chi ci ha giocato lo conosce io non ci ho mai giocato quindi non lo conosco lo conosco solo di fama prende un livello di Quake e lo fa girare sul dispositivo senza poterci giocare ma solo per il rendering della stanza e questo dispositivo e questo ci permette e mostra i FPS dell'icaricamento di questa applicazione e l'ho installato a tutti e tre i dispositivi per fare le prove il Flame regge senza fare niente i 34 FPS tranquillamente e oscilla a seconda di come mi muovo nella stanza può arrivare anche a 50 FPS purtroppo questo non è molto semplice da usare con l'applicazione per muoversi ancora non ho capito comunque il rendering è ottimo rispetto agli altri due dispositivi ecco riesco pure a muovermi malamente perché abbiamo il Kion che fa i 24 FPS da fermo e lagga un pochino e ci mette più tempo a caricare rispetto a questo il Lakatec che fa i 27 e ci mette pure un po' a caricarlo mentre il Flame non dimostra nessun segno di problemi durante l'esecuzione di questa demo e questo dimostra un po' l'effettiva potenza rispetto ai precedenti però ricordiamoci che ho disposto un dispositivo per sviluppatori serve a noi per poterci lavorare e come ho già detto non lo consiglio a chi vuole di provare Firefox OS perché gli consiglio di aspettare i nuovi dispositivi che sono stati presentati a Barcellona dell'Alcatel della generazione One Touch che saranno dual core sempre ovviamente con Firefox OS e anche gli altri che usciranno quindi aspettate a prendere questo perché a momento non ci sono ROM e non è detto ci siano Yoda eh sì Yoda ci siano gli aggiornamenti automatici e che se ci sono abbiano sempre le applicazioni demo che non potete togliere quindi siccome non ha neanche l'inglese solo quattro lingue al momento la ROM forse quando uscirà ci danno le altre o qualcuno di buona volontà comincerà a fare tutte le build vedremo le differenze però già come il rendering anche sotto il pannello delle impostazioni il flame si comporta in modo molto più fluido e reattivo rispetto al Kion quindi vi sviluppatori se volete un nuovo dispositivo o il primo dispositivo per lavorare con Firefox OS questo è l'ideale consiglio di comprarlo a chi vuole iniziare a sviluppare ricordiamoci che costa 110 euro ma per chi in tanto momento vuole solo provare Firefox OS non gli consiglio di fare questo acquisto ovviamente ma più che altro di fare l'applicazione e di contattarmi che le proviamo sui miei dispositivi un'altra cosa che volevo dire è che il boot è molto veloce e rispetto agli altri anche l'animazione di Firefox rende che c'è il boot è molto più pulita un'altra cosa che ho notato ieri durante lo sviluppo è che lo standard per le risoluzioni di questi dispositivi è stato sempre 320x480 quindi le applicazioni bastava che seguissero questo schermo con questo le cose sono cambiate abbiamo uno schermo 854x480 quindi tutte le applicazioni vanno fatte che supportano una risoluzione maggiore tant'è che se ringtone picker ho cercato di adattarla alla nuova risoluzione e renderla più grande proprio per lo schermo infatti i pulsanti da scritta ringtone set sono molto più grandi e perché si proporzionano grazie al responsive con le media query ma se provate su altri dispositivi ovviamente le questioni cambiano prima vi posso assicurare che le scritte erano veramente piccole ed erano anche difficili al tatto al tatto al tappo quindi se siete sviluppatori dovete considerare che se provate di supportare questo dispositivo dovete pensare in responsive per fare degli schermi più grandi quindi consiglio Gaia Building Blocks che al momento ha la soluzione migliore sono veramente indeciso di passare a delle perché ho ancora il mio android che funziona molto bene le applicazioni che mi servivano nel frattempo sono state sviluppate come KeyFox per la lettura dei file KeyPass quindi l'unica cosa che manca è la sincronizzazione del calendario dei contatti che è presente nella 2.0 quindi potrei metterci la night quindi il problema non si vorrebbe il problema sono tutte quelle applicazioni google-centriche che ancora non esistono perché google non rilascia di scrittura come google plus invece di cui ho bisogno essendo moderatore di una community con molti utenti come potete vedere sulla playlist dedicata a wordpress e anche per l'accesso ad un cloud che ancora non c'è l'applicazione ma questo è solo una questione di sviluppo spero che ne con il boom che è stato presentato recentemente recentemente a barcelona sono stati presentati dispositivi da 25 dollari e adesso sono stati lanciati diciamo che c'è stata la comunicazione ufficiale anche se per me era già ufficiale a barcelona comunque con i 25 dollari dispositivi pensati per l'india il che secondo me vedremo un bel boom di dispositivi ma anche di applicazioni perché ovviamente aumentando l'offerta i dispositivi aumenteranno anche le applicazioni che propongono ma ovviamente non pensate che un dispositivo da 25 dollari abbia delle performance da questo io purtroppo con gli altri unboxing che ho visto dell'Alcatel la gente confrontava questo dispositivo con dispositivi di una fascia molto più alta perché ricordiamoci l'Alcatel costava 79,90 adesso è passato a 59 dalla team quindi non si possono confrontare questi dispositivi con questo io l'ho fattutato con il parametro di Paragon per far capire la nuova generazione che questa è la pre-port per la nuova generazione perché questo è il nuovo dispositivo di riferimento per gli sviluppatori per questo hanno implementato che da fastboot si può regolare la RAM per simulare dispositivi meno potenti per chi non ha ovviamente un archivio storico di dispositivi che io invece ho però effettivamente si presenta molto meglio anche come consistenza sono contento che sono rientrato in questo programma che mi ha permesso di avere questo dispositivo certo rosico un po' perché non ci sono stati adesivi chi mi conosce sa che io amo molto gli adesivi non c'è scritto per Fox che nel Keyon faceva la differenza non è arancione come il Keyon che faceva la differenza specialmente perché prima non c'era niente quando è uscito questo ha di arancione il bordino qui del flash che non è male e il pulsante e qui le casse ricordiamoci che i file telefoni con Firefox OS non hanno pulsanti hardware oltre al power e al volume è questo qui che tra un po' si sta anche emulando lato software perché hanno implementato le gesture nella 1.3 tra i tool di sviluppo ci sono le prime gesture qui ho potuto aprire il market facendo ah ecco qui c'è un crash vedete come lo sfondo questo ovviamente è dovuto a questioni sviluppo ecco poi un'altra cosa che è presente con le gesture che aprendo un'applicazione vediamo se mi funziona si possono scorrere altre applicazioni aperte però mi sa che non ho altre applicazioni aperte quindi ne apro un attimo un'altra po' e vediamo un po' se funzionano un po' ecco qua vedete questa è una nuova gesture che possiamo vi hanno detto che esiste anche in altri telefoni no sono finita ah ecco e che si può abilitare nella 1.3 dai tool di sviluppo come la gesture questa qui che apre il task manager ovviamente non c'è una gesture da sopra perché ci aprirebbe solo il menu infatti apre il menu detto questo vi saluto e vi avviso che ci sono novità interessanti sulla questioni sviluppo potrei dire solo il termine youtube vi faccio vedere una cosa di sfuggita come anteprima per chi mi segue su instagram l'ha già visto ci saranno novità interessanti anche su quest'ambito e quindi per questo ci sarà un nuovo video il prossimo video di special di parliamo di sarà propriamente su javascript verso jQuery quindi devo disprogrammarmelo un attimo e detto questo io vi saluto ci vediamo al prossimo unboxing che spero sia veramente del tablet del tablet